Secondo Open Day per la Torres Femminile che registra una partecipazione di atleta inaspettata. Arrivate a tutta la Sardegna per coltivare il proprio sogno e mostrare di poter essere una delle hashtag campionesse del domani. L'appuntamento è le 18, visto le giovani calciatrici bussare i cancelli dalle ore 17. Segnale che il lavoro fatto alla compagine Rosso Blu sta raccogliendo i suoi frutti e che Sassari sta tornando ad essere meta in vita per chi vuole praticare calcio in rosa. Le presenze dell'assessore Albacanu, della consigliera Valeria Fadda e il prezioso abbraccio dell'arcivesco Monsignor Saba che ha benedetto il campo e il fiore Locchiello e la presidenza Budroni e tutti i presenti hanno impreziosito questo secondo appuntamento stagionale. Il taglio del nastro Rosso Blu ha ufficialmente ribattezzato l'ex camponero come Torres Femminile Football Center. Tra gli altri, presente oltre il mister Campus che ha diretto l'allenamento con la consueta professionalità, anche Torre Arca per visionare quello che sarà il bacino da cui attingere per costruire le squadre future. Un luogo di crescita e divertimento, un tempio in cui spero possiate crescere bene in vista del servizio e delle responsabilità che assumete crescendo in questa città per il Monsignor Saba.